Niente racket, niente malavita organizzata, solo l'azione di un balordo allo sbando che è stato individuato e catturato in brevissimo tempo. Parole chiare e decise quelle del questore di Pesaro questa mattina che dissipano, come un colpo di spugna, ogni possibile illazione o fantasiosa interpretazione degli eventi, come ha sottolineato lui stesso, che erano circolate nelle prime ore e nei giorni successivi gli incendi dei due ristoranti fanesi, a breve tempo e distanza uno dall'altro sabato mattina. 29 anni, lettone di nascita, ma cittadino italiano e residente ultimamente, ma senza fissa dimora a Fano nel centro, proprio a pochissima distanza dai suoi due obiettivi di sabato, bivaccando tra amici e conoscenti. Una volta fermato e messo alle strette dalla polizia ha ammesso tutto. A corto di soldi ha architettato i furti nei due locali e pensando di aver lasciato tracce a lui riconducibili ha dato fuoco ai locali nell'intento di mascherarle. Si è arrivati a lui attraverso le immagini catturate dalla telecamera del tiravino che lo ha pizzicato mentre era al suo interno. Dare una risposta immediata ma darla completa, quella ridda di ipotesi investigative che si erano scatenate subito dopo non fa altro che aggravare la percezione di sicurezza ed è quello che ci premeva. Quindi risolvere questo caso per la tempestività, per la professionalità, l'abnegazione, lo spirito di sacrificio di tutto l'apparato investigativo della Polizia di Stato è stato veramente incommiabile e questo voglio sottolineare. Il controllo del territorio è una forza in più che abbiamo e che dobbiamo avere in questo momento storico. Noi dobbiamo sapere assolutamente chi sta sul nostro territorio, le persone che vengono, che vanno e questo penso che sia veramente la base per un'attività di prevenzione sicura e seria. Prevenzione e controllo e conoscenza del territorio e dei soggetti dice il questore ed infatti è proprio un agente delle volanti di Fano che lo riconosce dalle immagini essendo una sua vecchia conoscenza. Nicola Moschella fin dai primi momenti sulla scena del crimine assieme al suo collega Marco Maggini, già protagonisti di un'altra azione distintiva quest'estate nella darsena borghese di Fano. Le immagini lo collocano sulla scena ma le prove ritrovate nella sua dimora dagli agenti della Polizia lo inchiodano. Il registratore di cassa sradicato dal tiravino, gli arnesi da scasso e gli indumenti che aveva indosso la fatidica mattina. Ci ha permesso di chiudere il cerchio, di farlo anche in tempi veramente molto brevi, questo anche per dare una risposta alla città all'allarmismo che si era generato per questo tipo di reati, comunque molto gravi, soprattutto per il fatto degli incendi, incendi che erano comunque dovuti alla necessità da parte del Reo di nascondere le tracce del suo passaggio all'interno dei due locali. Questa cosa è stata subito anche valutata dagli investigatori anche nella visione dei filmati, anche dalle muovenze dello stesso sospetto che si muoveva in una maniera strana rispetto a diversi anche casi invece di autori che sono molto professionali in questo senso, che commettono furti all'interno di esercizi pubblici. Quindi mettendo insieme tutte queste risultanze, tutti questi presupposti investigativi ci ha veramente condotto in tempi veramente molto brevi ad individuare il sospetto.